Vabbè, dico poche battute, soprattutto Marco Ferrando dovrà essere più severo di me negli orari. Riflettevo venendo giù ieri a Torino e a Roma sulla determinazione, l'audacia e l'alterigia della classe padronale. Unicredit, FCA, ILVA, Whirlpool. Sono decisi, determinati. Come avete visto anche in tutti questi anni, semplici lotte parziali che devono un giorno o anche meno, non riescono a incidere assolutamente sui risultati finali. Ora, perché è successo tutto questo? È successo tutto questo perché c'è una lunga catena del passato di sconfitte, ma una lunga catena di sconfitte che qui sono anche ricordate, alcune delle quali sono state sconfitte senza combattere, senza fare assolutamente nulla. Perché Joe Buck, da una parte, e la Fornero hanno visto delle mobilitazioni sindacali quando ci sono state letteralmente ridicoli. Quindi i padroni sono spinti da due elementi ad andare veramente fino in fondo e decisamente. Uno, il contesto della concorrenza internazionale, della crisi internazionale del capitalismo. Loro devono fare così, devono licenziare all'Unicredit per poter esattamente garantire quei profitti. In altre parti devono semplicemente licenziare per poter sopravvivere e cercare di fare successivamente dei profitti. Ma se hanno questa determinazione è anche perché dall'altra parte loro fanno la guerra, ma dall'altra parte non c'è più consapevolezza della necessità di affrontare con uguale determinazione questa guerra. Sanno che di fronte hanno delle organizzazioni sindacali subalterne completamente, che accettano questa logica. Quando io vado in una fabbrica che sta per essere chiusa e l'unica rivendicazione che viene avanzata dalle organizzazioni sindacali sono da una parte alle istituzioni di dare qualche ammortizzatore sociale e in attesa che arrivi un nuovo padrone, sei fottuto, sei assolutamente fottuto. Quando dici, come dicono tutte le organizzazioni sindacali, bisogna rendere più competitivo le nostre fabbriche, vuol dire che nel migliore dei casi pensi di difendere il lavoro tuo, ma a scapito magari se parliamo della FCA, della Opel in Germania o della Peugeot in Francia. Cioè in qualche modo dividi il proletariato. Per questo insieme alla determinazione di classe è anche esattamente l'unità di tutti, è l'unità al di sopra delle frontiere, perché loro sapete, loro quando dicono i signori padroni, quelli che giustamente qui è stato detto dobbiamo continuare ad odiare, perché sono quelli che portano il mondo alla catastrofe, a distruggere quel che è, sono anche le conquiste che sono state fatte, democratiche e sociali, che alcune generazioni di lavoratori sono riuscite a realizzare, ebbene, noi dobbiamo altrettanto a loro contrapporre un'unità e una forza del mondo del lavoro, e non solo l'opinione pubblica. Perché oggi è giusto, ci sono molti movimenti, tutti estremamente importanti. Prima Chiara è stata bellissima, direi nel suo intervento, nel ricordare la lotta agli obiettivi delle donne, che pone immediatamente un problema anticapitalista e antipatriomarcale fortissimo. Ci sono il movimento per la difesa del pianeta, è ugualmente importante, e generici, più generici, movimenti attorno a Bella Ciao o all'antifascismo. Però attenzione, noi dobbiamo fare qualcos'altro, e nello stesso tempo c'è qualcuno che dice che la classe non c'è più. La classe è morta, non c'è. Sì, non è attiva, la classe è passiva e subisce tutti i contraccolpi dell'offensiva del padronato e le suggestioni delle forze della destra. Ma noi abbiamo bisogno di questa classe. Abbiamo assolutamente bisogno dell'unità delle lavoratrici e dei lavoratori, e abbiamo bisogno dell'unità dei settori industriali, abbiamo bisogno dell'unità del pubblico impiego, e abbiamo bisogno dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni. Io ho sempre detto che uno sciopero generale è più potente se i lavoratori delle banche e delle assicurazioni bloccano tutto quanto. Non funziona più il sistema. Questa è una cosa. E non a caso, finché la mobilitazione resta su un piano di generico di opinione, anche Repubblica dice, ma che bello. Va bene, ma deve fermarsi lì, non deve andare oltre. Guardate anche quali rilievi hanno dato in medio alle lotte dei lavoratori in Francia. Perché cambia un po' se io, Sceminò, ovvero sia ferroviere, blocco, non un giorno, alcuni giorni, l'intero sistema dei trasporti. La forza cambia, i rapporti di forza cambiano, e soprattutto entra in funzione un meccanismo che dice non sono più solo, ce la possiamo fare, possiamo anche vincere se andiamo in quella direzione. Questo è il problema decisivo che abbiamo, di ricostruire l'organizzazione, non solo della rappresentanza politica, che noi dobbiamo dire aiutare i lavoratori e le lavoratrici a ricostruire il tessuto della loro forza, della loro organizzazione, sindacale, politica, sui territori, ovunque possibile. Se no perderemo la battaglia, compresa la battaglia, per un'alternativa. Allora noi cosa siamo? E' l'ultima cosa che dico. A me è parso proprio che in questo stagno stagnante che c'era della sinistra, in qualche modo all'inizio di settembre io e altri compagni ci siamo posti il problema, ma cosa facciamo? Proviamo a muovere qualcosa. Incontri bilaterali, incontri insieme e dire non possiamo stare così, non possiamo accettare, perché se no diventiamo in qualche modo noi anche responsabili. Nessuno di noi più forti, quelli che sono più deboli sicuramente non possono farlo, ma anche quelli che sono più forti non ce la fanno. Ma anche un'altra cosa, tutti siamo una parzialità, nessuno possiamo pensare di avere, non la verità in tasca, ma anche solo capire completamente la realtà. Allora cosa possiamo dire? Qualcuno dice no, allora tu curuniamoci, mettiamoci insieme, eccetera. Partiamo da una realtà complessa, individuiamo, questa è la forza di questa assemblea, individuiamo quel che è possibile fare insieme. La mia idea è sostanzialmente di avere, come era stato all'inizio del secolo, quella struttura di forum sociale e politico in cui in tanti si lavorava insieme determinate cose e poi ognuno faceva un pezzo più, un pezzo più correlato alla sua esperienza, alle cose che possono fare. Questo lo possiamo fare se facciamo questo passaggio, se costruiamo esattamente anche un coordinamento che deve essere aperto. Coordinamento significa che io credo che non tutti quelli che vogliamo che ci siano dentro dal punto di vista sociale e anche politico ci sono già qui, siamo in tanti qui, dobbiamo diventare ancora di più. Quindi è un metodo diverso da quello precedente, il metodo diverso dell'unità precedente era per le elezioni, il metodo che noi oggi proponiamo è quell'unità che aiuti il movimento proletario, lavoratrici e lavoratori a ricostruire la propria organizzazione e la fiducia in se stesso. Solo in questo modo potremo battere la protergia dei padroni e delle classi dominanti. Grazie. 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 Grazie.